Ecco, scollega il prodotto da Kiro Oh guarda, siamo pure fermi Buongiorno principesse Allora, sono le 10.56 di mattina Ci sono 28 gradi Celsius Fahrenheit, boh, fate tipo per 2-3 Siamo a Mob E adesso vi dico pure una novità No, non è una novità, è una curiosità Viene considerata una meta leggendaria Per gli appassionati di off-road Spesso è situata una mappa topografica Sul tappettino in gomma Nel vano portaggetti delle Jeep Renegade Ora prendete questa informazione E fatene quello che volete Vi auguro una buona giornata Grazie a tutti 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 Un po' italiano Qui abbiamo panino con cosciutto a caso Mezza fetta di cheddar E limonata per contorno Piccola limonata per contorno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.